Le leggi ci sono, le aziende le applicano, ma gli incidenti sui luoghi di lavoro continuano ad accadere. A dieci anni dall'entrata in vigore del testo unico, Studio Ares ha promosso a Bergamo un convegno sul tema, indicando le prospettive. La situazione è questa, le normative esistono, sono anche molto puntuali, però il dato di fatto è che gli infortuni non calano quanto dovrebbero. Sono in calo effettivamente, ma l'Italia è ancora purtroppo maglia nera in Europa, è una delle nazioni dove la situazione è peggiore. Bisogna mettere in pista degli strumenti di miglioramento che vadano oltre la semplice rispetto delle leggi, ma che vadano verso un discorso di miglioramento e anche perché no di certificazione. In questo senso anche l'ISO, come strumento internazionale, associazione per i sistemi di gestione, dà una mano con questa nuova norma ISO 45001. Adesso bisogna lavorare sull'efficienza e sull'efficacia. La protezione dei lavoratori si fa attraverso interventi sui comportamenti, sulla formazione, fatta salvo all'adeguamento delle macchie nelle strutture che va dato per scontato, anche se non sempre purtroppo è così. Lavorare sulla consapevolezza significa avere lavoratori formati, lavoratori che operano in modo efficace e significa anche, e per le aziende questo è un tasto importante al di là di qualsiasi giudizio etico, una riduzione dei costi. Bisogna lavorare in prevenzione e sensibilizzare ogni collaboratore anche sul suo aspetto personale. A volte si entra in azienda dicendo c'è qualcuno che mi mette al sicuro. Ecco bisogna anche automettersi al sicuro e sapere che se accade un incidente il primo a essere colpito è il collaboratore stesso. Oggi c'è una grossa novità nella ISO 45001 che è l'introduzione della consapevolezza. Quindi l'incremento della consapevolezza nelle aziende sui rischi che i lavoratori corrono è un aspetto che deve essere considerato. L'essere certificati ci aiuta a incentivare ulteriormente questa consapevolezza. A volte si considera soprattutto l'aspetto del certificato. Devo avere il certificato per partecipare al bando di gara. Dietro c'è molto di più ed è effettivamente un investimento perché richiede formazione, addestramento, test, simulazioni, prove. Per cui è effettivamente una cosa che poi alla fine costa ma a beneficio dell'impresa. Oggi le imprese non possono essere assenti dal mercato per mezz'ora. Un incidente comporta anche una possibile interruzione delle attività. L'azienda non si riprende più e questo è un rischio che gli imprenditori devono considerare i collaboratori anche. Sicuramente i datori di lavoro devono pensare che investire in salute e sicurezza è un investimento, non è una spesa. So che per gli imprenditori questo è un po' difficile da comprendere però è questo cambio culturale che dobbiamo fare. C'è tutto un fervore all'interno della nostra provincia che coinvolge tutte le organizzazioni che sono interessate a salute e sicurezza a far sì che questa condivisione di aspetti positivi relativi a salute e sicurezza deve essere un percorso che deve iniziare dall'asilo e accompagnare tutte le nuove generazioni fino a che arrivano nel mondo del lavoro in modo tale che arrivati nei luoghi di lavoro siano già consapevoli sulle misure che è opportuno adottare per evitare infortuni o malattie professionali. Tra le testimonianze è quella della Siderval di Talamona, tra le prime aziende in Italia a certificarsi in tema di sicurezza secondo la normativa Uniso 45001. Noi l'abbiamo ritenuto fin dall'origine un investimento perché ci ha consentito fondamentalmente di razionalizzare un aspetto che è molto importante all'interno dell'azienda e di collegare strettamente quello che viene fatto nella pratica e quello che in teoria dovrebbe essere fatto. Nel rapporto con i lavoratori molto spesso si ha la difficoltà a fare passare certi messaggi per cui la sicurezza è nell'interesse di tutti in primo luogo nell'interesse loro. Molto spesso non viene vista come qualcosa che possa toccarci direttamente e quindi questo direi è il primo problema che si incontra. Successivamente tuttavia molti prendono atto della rilevanza di questo aspetto e quindi sono i primi a farsi portatori anche di nuove idee e di proposte molto utili. Grazie a tutti.